Il russo che gareggia alla sinistra di Nicola alla ricerca della trazione in acqua, dello strappo che gli consente un recupero che non c'è perché è medaglia d'oro Korzenjowski che conferma il titolo europeo Con il proprio record personale si parla di costumi in tessuto, ancora un progresso quindi tre volte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti